Stiamo andando avanti secondo un cronogramma che dovrebbe portare a terminare i lavori entro l'estate del 2025 e quindi avere un ospedale funzionante assolutamente per fine 2025. I lavori per la ristrutturazione del Codivilla di Cortina procedono senza sosta, il confronto tra GVM, ULS1 e Regione è continuo e costante. Timori per un eventuale blocco del cantiere non se ne vedono all'orizzonte. Parola del commissario dell'ULS1 Giuseppe Dalben che risponde alla provocazione della D di GVM del gruppo Villa Maria. Se non cambiano le condizioni economiche ci fermiamo qui. Il nodo del contendere è il piano economico finanziario mutato rispetto ai tempi della gara d'appalto e della concessione partita anni fa. Ci sono delle normative che ci consentono di verificare appunto se i prezzi allora stabiliti possono essere mantenuti o meno. Gli incontri, assicura Dalben, sono settimanali con GVM che gestisce il punto di primo intervento e attività di ortopedia del Codivilla. Fasi alterne hanno caratterizzato la concessione negli anni anche proprio in relazione al cantiere per il fallimento di una delle società in associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata l'appalto. Inutile dire che l'attenzione è alta perché l'ospedale di Cortina avrà un ruolo fondamentale per l'organizzazione sanitaria olimpica. Questo è il nostro obiettivo e quindi stiamo lavorando pancia a terra su questo sia per risolvere, sono stati in parte risolti tutti i problemi legati al cantiere ma poi tutta anche l'infrasturazione interna. I confronti che abbiamo avuto fino adesso ci danno rassicurazioni che i lavori possano continuare e anche in questi giorni abbiamo fatto l'incontro martedì, il cantiere era in piena funzione con una cinquantina di operai al suo interno.